Musica Bentornati alle nostre consuite previsioni a cura di Meteo One. Il tempo stabile interessa in queste ore tutta la Spagna, l'Europa centrale e lo stivale, regalando cieli sereni su quasi tutti i settori. Deboli correnti, invece, localizzati su Calabria, Sicilia e sul sud della Sardegna, potranno apportare ancora fenomeni diffusi sulle suddette aree. Via via nei prossimi giorni questo campo di stabilità andrà allargandosi sempre più, conquistando in maniera più decisa gran parte dell'Europa e dell'Italia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 26 settembre. Fresco ma soleggiato al primo mattino su tutti i settori di Puglia e Basilicata. Al pomeriggio passaggi nuvolosi innocui a partire dalla Basilicata in estensione inserata sulla Puglia centrale e meridionale. Possibilità di veloci rovesci solo sul basso potentino. Le temperature saranno un leggero aumento nei valori massimi, stazionare nelle minime. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali su Basilicata e zone interne della Puglia, con qualche rinforzo solo su Salento. Mari calmi, a poco morsi. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo la nostra telespettatrice Maria Pia, da Ortona, per la sua splendida alba autunnale. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleapola, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie.